Arpaceas nel corso della sua storia più che trentennale ha sempre monitorato il mercato alla ricerca di soluzioni innovative per il mondo delle costruzioni, selezionando di volta in volta quelle che più si adattavano alle varie esigenze. Possiamo portare ad esempio l'introduzione del digital twin nel mondo delle costruzioni fino ad arrivare all'intelligenza artificiale, perché la gestione dei dati è molto importante per tutto il ciclo di vita, non solo per la parte di progettazione, ma anche per la parte di realizzazione e di gestione di un'opera. La padronanza dei dati riteniamo che sia molto importante per aumentare la sicurezza e la sostenibilità delle opere stesse e sostenibilità per noi è una parola chiave. Prova ne sia che Arpaceas è tra i soci fondatori di AIS, Associazione Infrastrutture Sostenibili, di cui Luca Ferrari, il nostro amministratore delegato è vicepresidente. Oltre a questo è un punto d'onore per noi la pubblicazione del primo report di sostenibilità aziendale. Arpaceas attraverso il proprio dipartimento di ricerca e innovazione ha selezionato quelle che sono le migliori tecnologie in ambito di sostenibilità presenti sul mercato nazionale e internazionale e le ha rese disponibili al mondo delle costruzioni come veri e propri servizi. Arpaceas appunto per questo motivo è un partner capace di diffondere cultura della sostenibilità portando sul mercato appunto soluzioni pronte per l'uso e adattabili ai vari contesti.